... Comunque sono molto contenta che abbiamo lasciato la nostra sigla perché mi mette un'allegria a me la nostra sigla Bentornati in studio, dicevamo? È inutile che mi guardi così pulpito, non incominciamo? Allora, bentornati, è cominciato il secondo tempo Sì, è cominciato il secondo tempo da un minuto e mezzo Mauro, naturalmente è zero a zero, non ci sono sostituzioni almeno da quello che stiamo vedendo, sta attaccando in questo momento Lascoli, Lecce ha cominciato con un cross dalla destra da parte di Falco che ha tagliato l'area piccola del portiere Lanni non c'era nessuno in grado di raccogliere nell'intervallo commentavamo il fatto che il Lecce sta giocando bene anche nelle altre partite, lo aveva fatto sta dando dimostrazione di essere una squadra quadrata quest'anno quindi campagna acquisti finora decisamente azzeccata Ora facciamo vedere a Bruno la gazzetta del mezzogiorno di stamattina su questa sindrome di inizio campionato di Lecce Però in fase conclusiva sta mancando oggi come forse in qualche altro barlume di partita precedente lo stoccatore Io credo che Pettinari che è stato acquistato in virtù dei 14 gol messi a segno con il Pescara di Zeeman l'anno scorso finora è mancato Pettinari è mancato in fase conclusiva Il Lecce prova a scacciare la sindrome del pari Mancato anche il quadro Il secondo tempo abbiamo qualche problema i nostri monitor avverto la regia in questo momento abbiamo perso per qualche attimo il Lecce che sta ricomparendo un po' come fa durante le partite Ti dicevo Bruno l'approccio di questo secondo tempo secondo te del Lecce è quello di chi proverà a vincere la partita o cosa? Ancora non si può dire sta manovrando molto palla è una squadra manovriera che gioca un calcio diciamo così molto razionale non proprio velocissimo a parte Falco che quando prende la palla accelera di due marce il gioco però per il resto è una squadra molto capace di palleggio ecco questa è una novità perché il Lecce delle ultime stagioni non era mai stata una squadra in grado di gestire con il palleggio con quello che si chiama tiki-taka ma insomma non vogliamo fare esempi altisonanti invece quest'anno invece quest'anno in tutte e tre le partite la mentalità dell'allenatore lo sta facendo perché lui quando giocava era uno che però manca in chiave palleggiava, fraseggiava molto quello che tecnicamente era molto bravo sono d'accordo nascondeva la palla è ricominciata l'Inter? è ricominciata l'Inter e ha avuto un'occasione per proporsi però ha lasciato anche spazio al contropiede del palco e cambi? non ci sono stati senti Pietro domani ci saranno perché dovrebbe entrare i cardi fra dieci minuti ok sai pure l'orario? si fra dieci minuti ma Bartolomu ce le sa tutte io non ho parole è la saggezza che parla diceva Totò Pietro maiellaro ciao il Foggia domani ospita il Palermo ha fatto una vittoria convincente una sconfitta non fettanto convincente che idea ti sei fatto di questa stagione partita a handicap secondo me si deve ancora assemblare perché ha cambiato molti giocatori però qualitativamente il Foggia è abbastanza forte è vero però non è facile del fatto anche dell'handicap bisogna vedere se ci toglieranno i punti bisogna vedere cosa succederà perché poi alla fine adesso mi hai detto anche il fatto delle altre squadre che potrebbero salire e allungandosi il campionato ne sappiamo veramente poco allungandosi il campionato potrebbe essere una cosa favorevole invece a 19 squadre se non accorcia subito in classifica diventerebbe difficile perché a 19 squadre una squadra che riposa ogni settimana diventerebbe molto difficile però per la qualità che si ritrova se dovessero andare bene tutti i giocatori che hanno preso e dovessero trovare la quadra credo che insomma il Foggia non avrà nessun problema manca un po' stroppa attenzione attacco delle lecce sul settore di sinistra con Scavone Scavone mette al centro c'è stato un intervento provvidenziale per Lascoli da parte di Delia che ha anticipato proprio Pettinari di cui stavamo parlando poc'anzi e ha messo il pallone in calcio d'angolo primo a fondo del Lecce in questo secondo tempo siamo al cinquantesimo quindi quinto minuto della ripresa sempre 0-0 angolo per il Lecce a te Mauro Antonio aveva avuto la notizia Icardi entra fra dieci minuti ma l'aveva avuta all'inizio dell'intervallo perché è già entrato Icardi dal secondo tempo quindi l'Inter prova tutte le sue carte per vincerla questa partita nel primo tempo ha avuto anche delle occasioni e le ha sprecate onestamente si può dire una cosa molto simile del Lecce che ha avuto due o tre situazioni anzi un paio di occasioni ma altre tante situazioni potenziali per sbloccare questa partita in casa Delascoli la sensazione è che si debba puntare al bersaglio grosso oggi in questa partita magari poi sono circostanze che non si ripresenterebbero in altre trasferte dicevamo mi pare che Barbara ti chiedesse di Stroppa e naturalmente anche di chi lo ha sostituito voglio sapere se si sente la mancanza di Stroppa ma chi vince chi fa bene è normale che è nostalgico però sono successe tante cose che leggevo si sono dette tra di loro avrà avuto le sue ragioni per andarsene però da una parte di spiagge perché si vede che è un grosso tecnico dopo Crotone Foggia ti ricordi le sue dichiarazioni lui ha detto in pratica che non è stata una sua scelta ma che è stato messo se parafrasiamo quello che ha detto in pratica lo hanno quasi costretto a lasciare perché gli avevano già prospettato ridimensionamento economico quasi una smobilitazione dei calciatori migliori e poi invece così non è stato secondo te Pietro perché? cioè perché ne hanno fatto un problema ambientale tanto per usare un termine perché magari in quel momento lì forse le esigenze e i problemi potevano esistere veramente poi non lo so come abbiamo parlato del bar che non sono riusciti a risolvere i problemi loro magari li hanno risolti però aveva già preso la sua decisione però il Foggia poi invece è riuscito a risolvere i problemi se ce ne fossero dei problemi ha fatto ad allestire un'ottima squadra sì dal tono di Giovannino credo che avesse altre consapevolezze ma comunque il calcio è fatto anche di queste cose ma non andava neanche tanto d'accordo con alcuni calciatori Stroppo in realtà sì ma come dice Pietro e come dice Michele c'erano anche delle situazioni societarie Mauro c'era stato un contropiede del Lecce Mancosu ottimamente piazzato a destra aveva una porzione di campo libera avrebbe potuto affondare che dà la sensazione certo questa è una partita che bisognerebbe provare a vincere ma in questo momento manca una punta centrale Pettinari non ha fatto un tiro in porta Mancosu e Falco hanno sopperito a questa carenza di ponte guarda che Mancosu ha tirato in porta e ha segnato era fuori gioco ma il tiro lo ha fatto l'ha fatto normale dice Mancosu c'è una realizzazione nelle precedenti partite proprio loro due hanno sopperito a questa mancanza di fisicità in avanti di offensività di Pettinari che per carità sarà pure l'anno scorso con Zeman ha fatto 14 giorni solo nel girone d'andata appena però tu sai che Zeman ti porta in porta entri in porta con il pallone sei stato noi c'eravamo abbiamo anche la presentazione della squadra del Bari c'eri? sì eravamo presenti no io non ero qui no no dico noi come redazione sia come radio che come relazione del TG9 ricordo che domani come radio c'è la radio cronaca naturalmente in diretta di Michele Salomone Franco vogliamo vedere il servizio della redazione sulla presentazione una squadra giovane un attaccante è rimasto nel cuore dei tifosi barisi Ciccio Brienza e questo è il nuovo Bari del presidente Luigi De Laurentiis la squadra è completa detto e siamo pronti a questa grande sfida Giovanni Cornacchini sta facendo un grande lavoro in poco tempo sono tutti giocatori che non si conoscono e quindi si stanno allenando tutti i giorni abbiamo avuto delle amichevoli per poter scaldare i muscoli anche trovare le giuste combinazioni e quindi ci auguriamo il meglio la prossima settimana la squadra verrà presentata alla città con un evento in una delle piazze della città vecchia dal sindaco De Caro il patron del Bari ha ricevuto la manna di San Nicola dell'Aurentis dopo aver definito il Bari una start up grande che deve performare in poco tempo ha svelato il nuovo logo il galletto c'è insieme a una vele e una torcia stilizzata simboli del mare della passione dei tifosi ai quali il presidente della SSC Bari si è rivolto vi aspettiamo tutti il 23 lunedì parte la campagna abbonamenti con lo slogan siamo tutti convocati la curva sud resterà chiusa tutti gli altri settori no la famiglia De Grecis sta lavorando assiduamente al campo che sta recuperando alla grandissima la prima in casa il 23 avremo un campo bellissimo la prossima settimana cercheremo di organizzarci proprio per lavorare alla prima in campionato in casa il San Nicola è bellissimo lo dobbiamo attrezzare scenograficamente è una bella struttura comunque sono molto contenta che Luigi De Laurenti sia il presidente del nuovo Bari perché è un bell'uomo onestamente no a parte quello che vabbè oggettivamente è un bell'uomo ma che domande fai abbiamo tutta la speranza che non facciamo fagliatori no ecco io ti ci vedrei molto secondo me ti arruolano non dimentichiamoci che ha fatto il lavoro che sta facendo col Bari l'ha fatto col Napoli e quello è importantissimo non solo l'ha fatto col Napoli ma poi ha portato il Napoli in una situazione per cui 91 punti all'ultima stagione la Champions League e quindi nuovamente in centro su fidiamoci e magari qualche volta perdoniamoli anche qualche eccesso hai detto Champions i conti i conti sono tra un po' guardiamo i gironi perché comincia la Champions League dicevi Michele no dico ha portato il Napoli in Champions con quei bilanci perché il Napoli è una società fortissima da quel punto di vista è una società modello poi ha creato tutto un indotto con i diritti d'immagine attraverso la presentazione dei film con una serie di presentazioni infatti molti calciatori il rovescio della medaglia a Napoli non vanno perché i diritti d'immagine d'immagine li gestisce direttamente lui e quindi nei fabbri ma le dichiarazioni anche del figlio le dichiarazioni del figlio il San Nicola è molto scenografico e il loro concetto di business bravo hai ragione hai ragione un momento da rimarcare in questa partita tra Ascoli e Lecce esce per infortunio Lanni numero uno portiere titolare in questa gara ed entra Peruchini numero 22 dimmi un po' stai romantico o speranzoso per questa entrata devi dire la verità la verità sto speranzoso vabbè basta pubblicità sei cattivo stai di sì stai di sì per la verità per la verità per la verità per la verità